Salve a tutti a Thomas Trigger e benvenuti nella quarta parte della filmografia di Dario Argento Cominciano i meravigliosi anni 90 Non tanto meravigliosi per il cinema italiano che con gli anni 90 vede praticamente la sua morte definitiva Il cinema italiano non vende più all'estero, non vende praticamente quasi niente all'estero A causa di vari blockbuster che cominciano ad arrivare, gli anni 90 è stato il primo grande periodo d'oro di blockbuster americani E i film italiani vendono sempre bene in più Tanti autori del cinema italiano negli anni 90 o smettono per qualche motivo O si trasferiscono dal cinema alla televisione che rimane l'unico luogo per guadagnare qualcosa Per fare un po' di soldi, fare un po' di lavoro E chi non smette muore negli anni 90 e quindi per forza di cose non lavora più Ed è proprio del 1990 il primo film appunto di questa decade particolare per il cinema italiano Dario Argento va in America insieme al suo grande amico Romero Dirige questo film a episodi Due Occhi Diabolici Due Occhi Diabolici, due episodi da due racconti di Edgar Allan Poe Il caso del signor Valdemar per Romero e il gatto nero per Argento Ora, velocemente l'episodio di Romero Allora, Romero fa il suo film, fa il suo solito film Prendi il racconto di Edgar Allan Poe che era un classico racconto di orrore Sul sopranaturale appunto sulla possibilità di mantenere in vita Una persona dopo la morte tramite la mesmerizzazione O l'ipnosi come viene detto nel film E Romero naturalmente lo trasforma nel suo film La sua solita critica sociale I protagonisti sono un uomo e una donna che decidono di rubare a questo uomo A questo Valdemar che sta morendo appunto E naturalmente il furto è punito da Romero nel film in una maniera incredibile, terrificante Romero fa il esempio sul suo solito film, la solita critica sociale La critica a chi ruba per se stesso Romero non spreca assolutamente in un film E anche da un racconto brevissimo come è appunto il caso del signor Valdemar Ne tira fuori qualcosa di veramente ottimo Probabilmente come al solito non è tanto l'horror all'interno del film Ma è più che altro la critica, la cosa più importante del suo episodio Anche se ci sono veramente delle scene inquietantissime Parliamo dell'episodio di Argento Il gatto nero di Po Qui Del Regento ha un protagonista della Madonna Perché ha Harvey Keitel come protagonista E bisogna dire la verità Questo episodio che comunque sono 50 minuti Cioè è un episodio abbastanza anche di un certo peso E riesce Del Regento a metterci un qualcosa di veramente interessante Gioca ovviamente tutto sull'horror L'episodio è puramente horror Ma gioca soprattutto sul rapporto di quest'uomo e della sua fidanzata Che va a disgregarsi all'interno dell'episodio Che è una cosa che mi ha interessato di più Della componente horror del film Questa analisi del rapporto che appunto si distrugge Ma quando l'episodio va avanti Mi ha ricordato un po' Shining Mi ha ricordato vagamente Non vorrei bestemmiare comunque Mi ha ricordato un po' questa cosa Mi ha interessato appunto vedere come Del Regento fa vedere questo rapporto che si disgrega Tra quest'uomo che è un ubriacone È un sadico perché come vediamo Lui è un fotografo Va a fotografare le scene dei delitti più efferati E durante il film Appunto utilizza il gatto nero Che la sua fidanzata trova Che adotta in un certo senso Utilizza il gatto nero per completare Un suo libro fotografico dove appunto Lui costringe il gatto Maltrattandolo e torturandolo Appunto a posare in queste fotografie Per questo suo libro Finito questo servizio fotografico terribile Il protagonista uccide il gatto nero Gatto nero che ovviamente ritorna E che comincia a scatenare la pazzia In questo uomo appunto Dove comincerà la spirale di violenza Che arriverà al finale Che porterà al finale Tragico, terribile L'episodio di Argento scorre Scorre molto bene È veramente interessante Pauroso Keitel è bravissimo Ha un personaggio Non eccezionale da interpretare Però lo fa veramente benissimo L'unica roba che sta all'interno del film Perché questo episodio di Argento Comunque è veramente ottimo Perché il racconto del gatto nero di Po Oltre ad essere di 5 pagine 10 pagine è veramente una roba misera Che appunto dà una difficoltà incredibile A farlo venire fuori un episodio di 50 minuti Quindi Argento ci ha aggiunto cosa appunto Per arrivare a questa durata Perché altrimenti il racconto di Po Lo fa in 10 minuti, un quarto d'ora Appunto nonostante appunto l'horror ci sia Ci sono degli effetti visivi veramente belli La disgregazione del rapporto funziona La pazzia che va a salire di questo personaggio Che comunque era già pazzo prima Quindi il gatto nero in sé È solamente Non è il gatto nero che scatena la pazzia Come non lo era nel racconto Non lo è neanche qui Quindi è il protagonista che si fissa Che è il gatto nero il problema In realtà il problema è sempre lui L'unica roba che proprio stona In questo episodio di Argento In questo film è il finale A me dispiace a dirlo Ma gli ultimi 10 secondi sono Sono orrendi Perché nel racconto di Po Il finale è troncato Si arriva a un punto dove Semplicemente finisce Tu sai cosa succederà dopo Lo intuisci Qui Argento ci mostra cosa succede dopo Ed è veramente una roba ridicola È un finale Che si intuisce Nel senso Lo capisci come va a finire il film Non è questo il punto Il problema è che appunto Gli ultimi 10 secondi Questo finale così telefonato Che sai già cosa sta per succedere Sai già cosa sta facendo il protagonista È brutto È brutto perché è anche ridicolo Come succede Quindi Benissimo 49 minuti e 30 Gli ultimi 30 Rovinano tutto Dispiace perché Da Argento è riuscito A rendere appunto Un raccontino minuscolo A fare quasi un film dell'orora Perché comunque 50 minuti Sono una bella durata Cosa non facile appunto Da un raccontino così breve Lo stesso Fulci Quando fece il suo Gatto Nero Che è un film di un'ora e mezza Ha eliminato quasi Ha dovuto eliminare quasi tutto Quello che è il racconto di Poe Proprio perché è impossibile Tirare fuori un film di un'ora e mezza Da un raccontino del genere Qui da Argento C'è tirato fuori un episodio molto bello Al 99% va benissimo Ma l'ultimo 1% È veramente qualcosa di troppo brutto da vedere E dopo l'esperienza del film a episodi Si ritorna al classico film Si ritorna al primo film 1993 esce Trauma Trauma che vede l'inizio di una trilogia Che io ho chiamato simpaticamente La premiata ditta Argento e figlia Questo perché con Trauma E i due film successivi La sindrome di Stendhal Il fantasma dell'opera Dario Argento appunto Metterà come protagonista La figlia a Zergento E questo Trauma È appunto il primo film di questa trilogia Che non è una trilogia Me la sono inventata io adesso Questa stronzatissima E appunto inizia questa collaborazione Con la figlia Ora Trauma è un film Che dopo 20 anni più o meno Sembra sia diventato il film Il primo film veramente brutto Di Dario Argento Io non sono del tutto d'accordo Nel senso che È vero che Se hai visto tutti i film di Argento Prima Trauma è probabilmente Quello che funziona un po' meno Di questa tipologia del suo thriller È anche vero che però Se uno non conosce Dario Argento Vede Trauma come primo film Che comunque È abbastanza È abbastanza moderno Come film nel senso Non è così Non è così datato Come potevano essere i primi Quindi Potrebbe essere un buon inizio Per avvicinarsi appunto All'autore Questo film appunto Questo Trauma È vero che Se uno guarda Trauma E poi guarda Profondo Rosso Il paragone è complicato Ma è complicato perché Dario Argento Con i suoi film Con il suo thriller Ha raggiunto certi livelli Con Profondo Rosso Con L'Ucello del Piume di Cristallo Ma anche con i successivi Con Tenebre e Opera Ha raggiunto un certo livello Di Di perfezione Di bellezza D'opera Che È veramente difficile Riuscire ad adeguagliarlo Di nuovo anche per lui Che è l'autore Di quei film È veramente complicato Riuscire a ritornare A certi livelli Sempre con lo stesso film Fondamentalmente Comunque Parliamo del film La trama È sempre quella C'è questa ragazza Interpretata da Dario Argento Che scappa da una clinica Perché dove era ricoverata Per via Dall'anoressia E viene salvata Dal suicidio Da un giornalista Riportandola a casa Appunto Questa ragazza assiste Alla morte Dei genitori Durante una seduta Spiritica E da lì Si dipana La solita La solita storia La solita indagine C'è anche una piccola storia D'amore Tra il giornalista E a Dario Argento E si arriva Alla solita Soluzione finale Ritorna ancora una volta L'indizio visivo All'inizio del film Che dovrebbe Dovrebbe svelarti qualcosa Del finale Anche se qui Visivamente funziona benissimo Perché la scena è terrificante Però Non è così Non è così Diciamo elegante Come i precedenti Indizi Messi all'inizio Del film Da Dario Argento In ogni caso Il film Va Scorre Non è Non è un brutto film Probabilmente Questo è il primo film Dove l'indagine Sembra anche Avere quasi un senso Fino alla fine Quindi non è un problema Di scrittura È il problema Che probabilmente Sempre la stessa identica cosa Senza avere Quel livello di orrore Quel livello di Di violenza Perché questo film È cattivo in certi punti Ma non è così violento Come i precedenti Non c'è il sangue Che c'è nei precedenti Il paragone è difficile C'è poco da fare Il paragone è complicato Ci sono anche Degli altri problemi Appunto fisici Il primo Aserzento Recita benissimo Ma quando apre bocca È un trauma Veramente Probabilmente È quello Il trauma Del titolo del film È una roba Che non ci puoi girare Attorno Aserzento Recita benissimo Però a un certo punto Apre bocca Infatti Il momento più bello Del film È un'inquadratura Dove Aserzento Come in un incubo Si mette a urlare Ma non esce nessun suono Dalla sua bocca Ed è fenomenale È bellissimo Sembra una battuta Ma è vero Purtroppo durante il resto Del film parla E si spezza la magia In più Aserzento Ci mette questa cosa Ci mette delle spiegazioni Ci mette tutta questa storia Della anoressia giovanile Che è anche interessante Un certo punto di vista Però non porta quasi a niente Sinceramente Aserzento A 18 anni Con due tette così Anoressica Non è che proprio Si è azzeccata Come ruolo Comunque Non è questo il problema Come ho detto Trauma mantiene Tutti quanti gli elementi D'arragento Stesse situazioni Stesse Addirittura Stesse inquadratura È sempre quella stessa roba Ma non è Paurosa sufficienza A parer mio A parte appunto Alcune scene Veramente cattive Perché comunque Ci sono sempre La cattivare la brutalità C'è sempre Quella Quella non sparisce Ma non è Non ha sufficiente Sangue E non è Non ha un ritmo Non ha un ritmo Che ti tiene lì La musica non aiuta E Aserzento Non aiuta Purtroppo Anche se Come ho detto Recita benissimo Però sembra un po' Sembra un po' Fuori ruolo Non so Non so come dirlo Non so come spiegarmi Stati fatti che a Trauma Comunque Per chi non ha mai visto Un film di Dario Argento E vuole magari un film A metà via Non modernissimo E neanche troppo datato Trauma effettivamente Va benissimo Perché comunque È sempre lo stesso film E ci trova Le stesse cose Che si troverà In altri film Soffre tantissimo Il confronto Con i capolavori Precedenti Che Raggiungono Dei livelli Che da Ragento Non riuscirà A ottenere Mai più E arriviamo Al 1996 E arriviamo Alla sindrome Di Stendhal Che devo dire la verità Ero partito malissimo Con questo film Avevo letto recensioni Orripilanti È brutto È lento È fa schifo Eccetera eccetera In più Ho scoperto Che per fare questo film Dario Argento Ha rallentato La produzione Di un altro film La maschera di cera Che doveva essere diretto Da Fulci Rallentata Rimandata Talmente tanto Che nel frattempo Fulci è morto E quindi Non se ne è fatto più niente Quindi Ero già partito Che lo odiavo La sindrome di Stendhal Poi però Lo guardo E rimango Rimango devastato Dalla prima mezz'ora La prima mezz'ora È fantastica È bellissima È Parte in una maniera Talmente Strana Talmente Solare Luminosa E stranissima E ti porta Subito dentro L'atmosfera Ed è Fenomenale A Sergento Ritorno di nuovo Come protagonista Prima scena Lei che arriva Coda lunghissima Per entrare agli uffizi Firenze Lei entra Comincia a guardare I quadri Ci sono delle inquadrature Di quadri bellissime Dal basso Laterali Lei che passa Queste stanze Fantastiche Tanto che La sindrome di Stendhal Prende La sindrome di Stendhal Che è quella Che Praticamente Guardando un quadro Vieni Soprafatto Dall'emozione Che ti scatena Questo quadro E ti senti male Svieni Praticamente Entri dentro Il quadro Viene chiamato così Vai dentro il quadro Effettivamente È la sensazione Che Provi nel vedere Queste Queste inquadrature Quadri Statue Queste stanze Piene di turisti Che non fa paura Ma Ha un'atmosfera Talmente bella Che ne viene Risucchiato Asergento Appunto Che soffre Da sindrome di Stendhal Come scoprirà Poco dopo Nel film Si sente male Viene aiutata Da uno Dopo essere stata Soccorsa La ragazza Torna in albergo E qui parte Una scena Fantastica Lei è all'interno Di questa stanza Buia A un certo punto Uno dei quadri Sparisce Finisce Finisce nel vuoto Si crea il vuoto All'interno del quadro Lei ci entra dentro Finisce a Roma Arriva all'interno Di una scena del crimine In una strada In una piazza È stata uccisa Una ragazza Lei parla con i poliziotti E poi rientra In una stanza Passa in un altro quadro Ritorna a Firenze Tutto quanto Diventa Tutto diventa Estraneante Non ci capisci più Un cazzo È una scena Veramente Fenomenale Parti Parti che Nei primi dieci minuti Quarta d'ora Così e fai Minchia Ma è bellissimo E infatti Fino a quel momento lì È fantastico Ma c'è Un piccolissimo errore Che Dario Argento Fa in questo film Ti fa vedere Immediatamente L'assassino Ma non te lo fa vedere Come faceva Col suo indizio All'inizio del film Che ti faceva capire No no Ti fa proprio vedere Lui ti fa capire Che quello lì È l'assassino L'assassino Prende Asersento La rapisce La violenta La porta in una cava In un deposito La violenta E poi succede una cosa Che non ti aspetteresti mai Per quello dico Che fino a quel momento lì La prima mezz'ora È fenomenale Perché fino a quel momento lì Dice Un cortometraggio Di 30 minuti È fantastico Ma succede una cosa Che non ti aspetteresti L'assassino muore Questo non è uno spoiler Ragazzi La prima mezz'ora di film Il film dura due ore Non è uno spoiler L'assassino muore Ti chiedi Scusa ma E adesso Esatto Adesso cosa succede Non lo scoprirai mai Perché la successiva Ora e mezza La passa E chiederti Che cazzo sta succedendo Che cazzo sto guardando Ed è purtroppo Il problema del film Che pur avendo Un finale Con un'idea interessante Perché comunque Ti fa pensare Ti fa ragionare un po' Questo finale Con questa spiegazione Un po' strana Ti fa ragionare un po' Però Con una prima mezz'ora Del genere Che era veramente Fenomenale E lo ripeto È bellissima Ti ritrovi ad avere Una parte centrale Una parte centrale Che dura un'ora e mezza Di nulla Di nulla Di esergento Che va in giro E basta Che va di qua Di là Fa cose Si mette parrucche Incontra gente Fa cose E non succede niente Non succede niente Fino alla fine O meglio Sì Ci sono degli avvenimenti C'è sempre la solita Indagia che va avanti Ma non Non ha un picco il film Non ha un momento Non ha una scena madre Non ha Non ha momenti Di horror Non torna più l'horror La scena più orror Era la prima E basta Non c'è l'horror Non c'è la tensione La musica non aiuta Asia Argento Non aiuta Non aiuta ragazzi Perché lei recita bene Ma qui c'è un ruolo Proprio del cazzo Scusate Ma C'è Se in trauma Asia Argento Anoressica Non era credibile Nella sindrome Stendhal Asia Argento Ispettore di polizia No No Veramente No Perché l'unica cosa Che fa da poliziotta Ok Arriva una scena Che praticamente Le danno Una pistola nuova Le danno Una pistola D'ordinanza nuova Lei la prende in mano La tiene come se stesse tenendo Un Non lo so Un bambolotto La guarda e fa È una 9 mm Con la sua voce Quindi Io non riesco a fare la mia A fare ancora più schifo Di quella di Asia Argento Ma Cioè Scusate Ma Asia Argento Ispettore di polizia Proprio No 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 Scusate Ma proprio neanche come Non lo so Come Come portinaia della caserma No Veramente no Non è Non è credibile È leggerissimamente fuori ruolo Anche perché all'epoca Delle riprese Aveva 20 anni 19 anni 20 anni Insomma Ok Un po' fuori ruolo Inoltre Asia Argento Non è aiutata assolutamente Dal resto del cast Che a parte Il protagonista maschile Che è Devo leggerlo Perché è impronunciabile Thomas Kretschmann Kretschmann Che Che tornerà Ancora In Alte Finitario Argento Che è un autore bravissimo Però ha leggermente poco spazio All'interno del film Quindi La sindrome di Stendhal Parte in una maniera Folgorante E poi Non esiste più Non esiste più Fino alla fine Dispiace dirlo Ma è un film Veramente brutto Che parte benissimo Ma finisce veramente Nel nulla E devo ringraziare Dario Argento Perché In questo film Come se Come se non ci fossero Abbastanza magagni In questo film Abbastanza problemi Oltre al fatto Che comunque Non ritorna Non ha senso Ancora La situazione finale Non ha assolutamente senso Buchi di trama Che tornano E questa volta Il buco di trama Purtroppo Te ne accorgi In una maniera Folgorante E questo cosa vuol dire Che il film Purtroppo È costruito male Dario Argento Non riesce a distrarti Dal fatto Che la trama Fa acqua Tutte le parti E l'unica cosa Del quale ringrazio Dario Argento Che probabilmente Mi perseguiterà Fino alla tomba È il fatto Che in questo film Ci viene data L'informazione Importantissima Che il nome Marie In Francia È anche Nome maschile Ci sono dei ragazzi Che si chiamano Marie Grazie Dario Argento Grazie a te Che so questa cosa Grazie Dell'informazione Veramente È probabilmente La roba più interessante Del film Dispiace dirlo Ma è così Bene Concludiamo anche qui Questa puntata Dedicata a Dario Argento E la concludiamo Con una curiosità E perché no Perché non una curiosità Proprio su Asia Argento La curiosità è che Asia Argento Non è Asia Argento Questo perché All'epoca della sua nascita Adesso non so Se sia ancora così Non era possibile Chiamare I propri figli Con il nome di un continente Con il nome di una città Eccetera E quindi Asia Argento Non si chiama Asia Argento Ma All'anagrafe Il suo nome completo Lo devo leggere Perché è un po' lunghino In realtà è Aria Maria Vittoria Rossa Argento In realtà Il suo vero nome È Aria Argento E non Asia Grazie come al solito Per avermi seguito Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti